Giuseppe Pallesca, presidente della cooperativa Pescatori Progresso, che è stato ed è tuttora il rappresentante dell'intera marineria sanbenedettese in questi momenti difficili, iniziamo con il dire che da questa sera, da questa notte a mezzanotte, tutte le barche, sia le piccole che le grandi, torneranno in mare, torneranno a riaccendere i motori, le barche più grandi tornano con un certo anticipo, grazie alla proposta, alla vostra proposta che è stata accolta dal Ministero. Sì, infatti in base a questa proposta per noi è andata bene perché se no dobbiamo riprendere il mare il 25, almeno questa giornata per vedere il pesce, il quantitativo che ci sta, anche perché le barche sono state ferme e non è che tutto dopo funziona bene, per noi grazie al Ministero questa giornata ci fa molto comodo. Il Ministero diciamo che ha deciso di accogliere la vostra proposta di evitare, almeno per questo rientro in mare, le 72 ore di pesca, l'obbligo delle 72 ore di pesca? Sì, perché giustamente questa giornata ci è stata data, ma la prossima settimana la dobbiamo ridare, invece di dare un giorno la dobbiamo dare due, la prossima settimana la marineria farà due giorni. Ecco, quindi i conti tornano, purtroppo verrebbe da dire, si torna in mare comunque con mille incertezze perché il prezzo del gasolio è lo stesso, è più o meno lo stesso che c'era prima del fermo pesca ed è lo stesso che poi ha provocato gli scioperi e le proteste a cui abbiamo assistito nella prima parte dell'anno. Quindi quali sono le prospettive con le quali rientrate in mare? Le prospettive sono sempre quelle, non è cambiato niente, il caro gasolio è ancora alto per come sta, le barche ancora soffrono di tutta questa situazione, che un mese di sciopero più questo fermo biologico, le prospettive ancora non sono tante buone. Con la speranza che tornando in mare un paio di settimane vediamo se il pescato viene venduto giusto per andare avanti, però io spero che in futuro qualcosa cambierà perché sarà molto difficile andare avanti in questa situazione. Ecco, ci saranno quindi da fare delle valutazioni e saranno fatte sicuramente con le altre marinerie, soprattutto con le marchigiane. Nella prima parte dell'anno, nel momento davvero forse più duro abbiamo assistito comunque ad una unione di intenti tra i pescatori marittimi sia del porto di San Benedetto ma anche degli altri porti sia delle Marche che dell'Abruzzo. Sì, io penso che il problema ritornerà, non è che non ritorna, però penso che questa settimana è una giornata che non sarà tanto, la prossima sarà due giorni, la terza settimana comincerà qualche problematica, vedere quello che bisogna fare. Giustamente ci risenteremo con le marinerie, siamo sempre d'accordo, vediamo in futuro, speriamo che qualcosa cambia perché così le attività e le imprese non vanno avanti. Sì, io penso che ci risenteremo con le marinerie, siamo sempre d'accordo, vediamo in futuro, vediamo in futuro, vediamo in futuro, vediamo in futuro.